allora Beppe se devi andare vi chiedo scusa ma voi sapete che noi come articolo 21 facciamo la scorta mediatica scusa Beppe scusa magari non tutti ti conoscono volevo solo dire che uno di quelli che hanno sottoscritto prima questa lettera appello è appunto Beppe Giulietti che tra le altre cose è il fondatore di articolo 21 prego io vi chiedo scusa sei stato gentilissimo ma io non sono oggi è la giornata della scorta mediatica c'è l'udienza a processo Regenici sono delle deposizioni delicatissime dall'Inghilterra noi come associazione seguiamo questi casi con presenza non chiacchierando con presenza quindi in tribunale dentro l'aula così come sia fatemi ricordare perché l'avete fatto voi con una bellissima iniziativa di cui siete stati i protagonisti come sempre avete ricordato Rocchelli fatemi dire che anche in questi giorni si sono ricordati i giornalisti ammazzati ma si è saltato Rocchelli e guarda caso ieri ho letto Rocchelli morto in un conflitto Rocchelli non è morto è stato assassinato ed è stato assassinato per esempio dal piombo ucraino e questo talvolta purtroppo lo dico con dolore lo stato dell'informazione non si possono cancellare i morti lo si sta dalla parte delle vittime sempre e comunque dovunque in Russia, in Ucraina, in Africa, in Asia a Gaza ognuno si sceglie il regime a noi non piace come a voi questa idea che ci siano i morti che ci assomigliano perché hanno lo stesso colore della pelle perché pregano forse lo stesso Dio non lo pregano e quelli sono i morti buoni poi gli altri morti come a Gaza lasciamoli pure perdere anzi i loro nomi e cognomi non devono essere noti sono morti ignoti morti di serie B vanno criminalizzati anche dopo la morte ecco perché questa iniziativa e ho terminato perché dice Flavio Lotti favola della pace Mattia Motta di articolo 21 Giovanna Palladini persone molto più competenti di me io la trovo sacrosanta anzi comunico che articolo 21 aderirà a tutte le iniziative che saranno promosse per chiedere la pace per chiedere che c'è stato il fuoco per chiedere di stare dalla parte delle vittime cimili per fermare il traffico delle armi per questo anzi approfitto per dare le adesioni come sa Flavio Lotti a tutto il calendario di iniziative che sono state stabilite fino alla mobilitazione del 26 ottobre sono certo e sicuro conoscendo la sensibilità in particolare della CGL non solo a Piacenza e di tutte le associazioni della mia maestra che troveranno il modo per inserire in queste grandi iniziative si parla di uno sciopero generale per inserire questo tema perché vedete il Papa ha sbagliato quando ha detto rischiamo la terza guerra mondiale a pezzi sì sì per una volta ha sbagliato ma per difetto rischiamo la terza guerra mondiale sarà bene levare a pezzi di fronte a un rischio di questa natura e non si possono né tenere i toni bassi né fare finta di niente né guardare dall'altra parte fatemi dire perché vedo delle colleghe giornaliste e giornalisti che bisogna riprendere l'appello che è stato lanciato alla Perugia Sisi no panel no pissa è una vergogna continuano a essere cancellate le voci del mondo della pace le voci più autorevoli le voci di ricercatore di docenti di reti di movimenti vengono cancellate c'è un'informazione che tende quando deve far parlare il mondo della pace quasi a rendere macchiettistico a estremizzarlo ma a levare coloro fatemi ricordare solo che in questi giorni in Italia il Lampapè l'ho visto una sola volta in televisione che è un libro straordinario di Anna Foa una storica profondamente radicata nel mondo ebraico che accusa Netanyahu di promuovere l'antisemitismo l'ho vista a stento in televisione abbiamo degli straordinari uomini dell'ONU e donne albanese di domenico tornati in Italia e chi li vede mai come se in Italia non dovessero parlare mi permetto di rilanciare quell'appello e basta io poi volevo solo e vi chiedo scusa ringraziarvi perché voi siete una centrale di proposte per la pace quotidiana e costante non siete mai improvvisati quindi sono io che vi ringrazio e se non vi ascolterò fino alla fine è perché devo rientrare nell'aula dove è in corso l'udienza Regenio tanto grazie solo questo volevo dire bene noi ringraziamo te anche perché siamo sicuri che per quello che potrai ci darai una mano nel mondo della stampa e dell'informazione perché è fondamentale che il nostro appello per chiedere uno sciopero generale venga diffuso e non invece che si silenzi noi sappiamo che purtroppo sul tema della pace parlano solo generali ministri favorevoli alla guerra purtroppo chi la pace la pratica quotidianamente non ha mai diritto di parola ti do una notizia neanche tutti i generali e neanche tutti gli ambasciatori perché quei generali che esistono e quegli ambasciatori che esprimono un punto di vista critico sono misteriosamente scomparsi dai grandi luoghi della discussione ma su questo c'è Flavio Alotti che per me è un punto di riferimento costante che ne sa molto e più di me certo è una vita che cerca di costruire la pace allora prima di dare la parola a lui io volevo diciamo così introdurre anche perché l'appello è partito è partito da qua da Piacenza ma ovviamente adesso deve arrivare in tutta Italia anzi io direi che dovrebbe uscire dall'Italia ma per fare questo noi abbiamo bisogno anche dell'aiuto e del sostegno dai sindacati italiani allora la lettera appello che noi oggi presentiamo e che invitiamo tutti e tutte a firmare su change.org è determinata ovviamente dall'eccezionalità del momento stiamo veramente rischiando un escalation senza precedenti speriamo di no ma che potrebbe portarci verso scenari indicibili ma già quanto è successo e continua a succedere quotidianamente rappresenta un orrore non tollerabile bambini e persone uccisi in Palestina tutti i giorni e ora anche in Libano quelli uccisi le persone uccise il 7 ottobre in Israele le centinaia di migliaia di persone morte nel conflitto ucraino in Sudan nel Myanmar e mi scuso perché non li cito tutti tutto ciò non è tollerabile l'Italia e l'Europa per chi ancora non lo sapesse sono in guerra il rischio è che anche i nostri figli possono essere chiamati a recarsi a combattere noi diciamo basta basta armi inviate in Israele e in Ucraina e dovunque ci sono conflitti armati basta armi sempre e dovunque noi chiamiamo a sostenere la proposta di questo sciopero tutte le persone che si riconoscono in quello che dice Giovanna Botteri nel video che abbiamo visto la guerra va fermata in ogni modo come potranno i bambini crescere credendo nella pace dopo aver subito gli orrori della guerra aver visto uccidere i propri genitori come potranno i padri professare la pace dopo aver visto morire i propri figli sotto le bombe come succede in Palestina in questa idea possiamo riconoscerci in tanti laici professanti le diverse fedi religiose e atei per questo invitiamo tutti a sottoscrivere l'appello su change.org questa è una situazione eccezionale e non possiamo rispondere con i soliti modi e non possiamo accontentarci del male minore vorremmo che questa lettera appello venisse letta e condivisa dappertutto in famiglia sui posti di lavoro nelle chiese e dove hanno sede tutte le confessioni religiose nelle scuole chiedendo una volta tanto agli studenti cosa ne pensano non si può nemmeno pensare che le associazioni e i sindacati possano cavarsela con le solite parole di condanna non sono risposte di routine che abbiamo bisogno no oggi bisogna investire per la pace è un momento eccezionalmente pericoloso e dobbiamo rispondere in modo altrettanto eccezionale generoso e innovativo quindi sicuramente parteciperemo alle manifestazioni che ci saranno ma facciamo sentire la nostra voce anche firmando per chiedere l'indizione di uno sciopero generale nazionale contro la guerra e qui io concludo il mio breve intervento introduttivo doveva essere presente con noi Daniele Novara ma purtroppo ha avuto un impedimento e quindi non c'è ma manda i suoi saluti e a questo punto io direi di intervenire a Flavio Lotti che tra le altre cose adesso è presidente della fondazione Perugia Sisi per la cultura della pace che è in collegamento e quindi a te Flavio grazie grazie davvero Roberto e grazie a tutte e a tutti per per questa iniziativa e per esserci anche anche oggi come avete ben detto come hai ben detto viviamo un momento davvero drammatico pericoloso un tempo nel quale stanno accadendo cose terrificanti ci sono governi ci sono responsabili della politica internazionale che se ne fregano di tutte le regole di tutte le leggi che sono state scritte dai nostri padri dopo la fine della seconda guerra mondiale dopo 70 milioni di morti dopo una catena di guerre di genocidi di massacri l'olocausto pulizie etniche ecco dopo quella lunga terribile sequenza di errori erano state scritte delle regole erano stati messi dei paletti era stata costruita l'organizzazione delle Nazioni Unite che con tutti i suoi limiti però è riuscita a impedire fino ad oggi lo scoppio di una terza guerra mondiale oggi purtroppo invece siamo di nuovo precipitati dentro a questo pericolo spaventoso proprio perché ci sono governi che deliberatamente pretendono di cancellare di distruggere tutto il sistema l'architettura internazionale che ci ha garantito bene o male in alcuni casi anche abbastanza male ma in molti altri davvero in maniera positiva significativa importante un lungo periodo di progresso dell'umanità e così non voglio assolvere nessuno dei crimini che ci sono stati in questi quasi 80 anni certo che i crimini che si stanno facendo oggi distruggendo quelle regole distruggendo quelle organizzazioni che ci avevano aiutato a migliorare il rispetto dei diritti umani nel mondo oggi ecco stiamo correndo un pericolo grandissimo e questo pericolo va assolutamente fermato con un'assunzione di responsabilità che ancora purtroppo non si sta manifestando come dovrebbe questo è il problema questo è il pericolo più grande ci sono tante persone che sono sfiduciate ci sono tante persone che non credono più che sia possibile cambiare la realtà e che quindi rinunciano a mobilitarsi a impegnarsi ecco l'appello che oggi noi presentiamo è invece un appello alla responsabilità individuale e collettiva sottolineo individuale e collettiva perché davanti a quello che ripeto l'orrore i massacri le torture l'impunità l'inazione che circonda tutti questi tragici accadimenti badate siamo un escalation perché nelle prossime ore e nei prossimi giorni noi rischiamo di vedere ancora di peggio di quello che abbiamo visto fino ad oggi ecco perché tutte le associazioni le organizzazioni che in questi anni hanno dato vita anche che ha diverse reti di pace ci sono unite per organizzare il prossimo 26 di ottobre una giornata nazionale di mobilitazione una giornata di mobilitazione contro tutte le guerre noi avremmo voluto e io avrei voluto una manifestazione nazionale ancora non è possibile realizzarla ci sono anche problemi economici e organizzativi non da poco abbiamo deciso allora di organizzare sette manifestazioni a Bari a Cagliari a Firenze a Palermo a Roma e a Torino e a Milano naturalmente e anche a Milano quindi sabato 26 io faccio un appello affinché tutti quanti noi e molti altri possano lavorare per far sì che sia il primo momento di il primo momento anche di rilancio di questo nostro programma di questo nostro impegno che deve veramente portare tutti a fermare il paese in nome della pace in nome del diritto alla pace del diritto alla vita nostro e di tutte le generazioni che stanno crescendo grazie ancora Roberto e grazie a tutti quelli che crederanno e spenderanno del tempo e delle energie per queste iniziative grazie Flavio grazie per tutto quello che da tanti anni stai facendo allora il 26 sicuramente di ottobre noi ci saremo e ci saremo e spero che tutti ci daranno una mano anche in quell'occasione per raccogliere le firme per sostenere l'appello per lo sciopero generale contro la guerra quindi grazie e a questo punto dovrebbe essere collegato Gian Sandro Gian Sandro Barzaghi dell'associazione non uno di meno anzi il presidente diciamo quello che ci ha creduto tanto e dovrebbe essere in collegamento quindi allora volentieri gli do la parola per un breve intervento grazie grazie veramente di cuore perché credo che in questo momento questa possibilità di discutere di dibattere di confrontarci sia essenziale perché siamo di fronte non al rischio dell'escalation non al rischio di una catastrofe siamo già dentro diceva bene Flavio prima dentro Gian Sandro scusa non voglio interromperti volevo solo dirti che magari tu preferisci così ma non hai accesa la videocamera cioè non vediamo ti sentiamo ma non ti vediamo adesso adesso sì adesso sì bene dunque dicevo appunto che siamo già dentro questa situazione dentro una spaventosa catastrofe umana ambientale diceva prima Flavio e lo ripeto perché la guerra è già dentro nelle nostre case dentro nella nostra realtà dentro nella nostra esperienza quindi credo che da questo punto di vista dobbiamo riflettere che non siamo di fronte ad una situazione ordinaria siamo di fronte a una situazione straordinaria e appunto di fronte a una situazione straordinaria occorrono mezzi non ordinari come quello è uno sciopero come appunto abbiamo discusso per quanto riguarda l'appello quindi importante questo appello è importante che noi lavoriamo in questa direzione vedete nel 1914 soltanto pochi intuivano l'imminente catastrofe oggi ancora molte persone pensano che la guerra sia una questione che riguarda altri che non ci interessa per cui siamo abbastanza indifferenti addirittura abbiamo introiettato il linguaggio della guerra in alcuni casi addirittura c'è un processo di militarizzazione all'interno delle scuole e dell'università dove l'esercito e le forze armate intendono reclutare e intendono formare dove appunto il ministro Crosetto ci dice che appunto dobbiamo prepararci all'eventualità di un conflitto capite qual è oggi la cultura che viene avanti una cultura di guerra a cui noi dobbiamo contrapporre e costruire una cultura di pace per questo motivo l'associazione non uno di meno sta promuovendo un documento che vi chiediamo di sottoscrivere perché è un documento che si basa su un punto su un titolo impariamo la pace impariamo cioè non solo ci educhiamo la pace ma dobbiamo imparare praticare percorsi di pace perché per uscire da una situazione come questa bisogna avviare percorsi di pace io ho insegnato per 40 anni diritto internazionale e le parole di Flavio mi hanno consolato in questa direzione perché oggi il diritto internazionale viene drammaticamente calpestato ogni giorno allora come possiamo costruire una cultura di pace ci rivolgiamo direttamente alle scuole alle università in modo trasversale al docente universitario marxista al docente universitario al docente universitario per l'università per la pace la rete che è stata costruita ci rivolgiamo ai valdesi ci rivolgiamo al prete di Quartogiaro che aderisce al documento ci rivolgiamo cioè in modo trasversale a tutti coloro che nelle scuole le università hanno a cuore la formazione di questi ragazzi l'educazione diceva Maria Montessori è l'arma della pace e quindi per questo partendo dal vissuto di questi ragazzi e di questi ragazzi dallo scontro dalla sopravfazione dalla cultura della mancanza di rispetto da quello che avviene nelle scuole ogni giorno e nei quartieri ogni giorno con queste cose drammatiche lo scontro per lo scontro la sopravfazione la violenza la violenza di genere e così via partendo da questo dimostrando che è possibile una strada alternativa a quella dello scontro cioè la strada della mediazione l'arte della mediazione la gestione del conflitto il superamento del conflitto per arrivare poi alla guerra per arrivare cioè a qualche cosa che non è inevitabile si può evitare la guerra ci sono diceva ancora prima Flavio ci sono dei meccanismi ci sono delle regole ci sono degli organismi internazionali che possono prevedere questi visionari che hanno inventato il diritto internazionale dopo due guerre mondiali questi visionari hanno costruito un sistema di regole tale che dovrebbe essere analizzato per una risoluzione pacifica delle controversie internazionali ecco lavorando su questo terreno cercando di capire questi ragazzi come ragionano e costruendo con loro facendo loro stessi protagonisti di questi percorsi io credo che potremmo davvero educare alla pace in modo tale che questo sia l'obiettivo che costruiamo partendo dalle giovani generazioni perché appunto i bambini si diceva nel video devono imparare la pace grazie a tutti davvero se volete contenere questo documento ne saremmo davvero felici grazie Gian Sandro allora io ricordo tutti quelli che sono collegati per cortesia quando non è il loro turno comunque di spegnere il microfono quindi spegniamo il microfono e un'altra cosa la ricordo Luciana Bertinato una maestra già collaboratrice di Mario Lodi e adesso sta portando avanti il progetto dei pacifici un bellissimo progetto che proprio parlando di situazione alla pace è un progetto questo molto importante è collegata ha aderito e quindi insomma ne approfitto per salutarla poi non so se vorrà dire qualcosa però ora io qua sullo schermo sinceramente non conosco tutti quindi non so se sono presenti dei giornalisti e io vorrei chiedere se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti perché questa è una conferenza stampa e quindi abbiamo estremo bisogno dei giornalisti della stampa dei media quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire e porre una domanda benvenga allora beh magari allora andiamo a vedere nel chat ecco c'è un messaggio sulla chat di Luciano Bertinato la carovana dei pacifici derise la richiesta di uno siopero nazionale contro la guerra invitiamo sottoscrivere all'appello tutti gli insegnanti delle scuole italiane cittadini e cittadine biblioteche e associazioni che hanno partecipato al percorso di riflessione e manualità per pensare e giocare la pace iniziato dalla casa delle arti del gioco del maestro Mario Lodi è urgente esserci con l'intransigenza gentile dei pacifici grazie e noi ringraziamo naturalmente i pacifici e Luciano se io qua non vedo giornalisti che hanno chiesto di fare domande per cui innanzitutto dico che Luisa Morgantini non ha potuto essere presente e invece se è collegato Don Luigi Don Luigi Mosconi io chiederei a lui una una sua breve una sua breve riflessione se c'è Don Luigi qua vediamo tutti i partecipanti perché non niente allora visto che Cristina Rinaldi ha alzato la mano ricordo a tutti che appunto è una cosa destinata a una conferenza stampa che viene registrata e quindi cerchiamo di essere come dire essenziali quindi niente volentieri cedo la parola a Cristina buongiorno grazie scusate se mi intrometto non sono giornalista sono un attivista di varie associazioni che lottano per la pace e contro la guerra e volevo far presente che questo sciopero noi l'avevamo già eravamo già aderito quando aveva lanciato Ginevra Bonpiani e la Barbara Alberti e avevamo anche lanciato su una piattaforma questo si parla della primavera scorsa poi purtroppo l'abbiamo dovuto abbandonare perché impegnate sulla nella campagna per piace terra e dignità alla quale Ginevra Bonpiani era candidata e adesso la vorremmo riprendere ci farebbe molto 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 piacere riprenderla con tutti voi e essere uniti in questa lotta che noi condividiamo al 100% sia come gruppo che si chiama che è un gruppo di organizzazione di intervento disarmato e l'assemblea per la pace fondato da Ginevra Bonpiani che è come mio comitato che è il comitato che ho fondato io che è il comitato pace e non più guerra quindi noi aderiamo sia a tutti gli appelli che voi ci avete fatto cercheremo di essere presenti anche il 26 a Roma e nelle altre città dove Flavio Lotti ha lanciato questa queste iniziative e quindi ecco volevamo far presente soltanto la nostra unità di intenti e di lavorare la possibilità di offrirci a lavorare insieme grazie a tutti bene grazie grazie a te naturalmente ricordiamo la proposta di Ginevra Bonpiani e di Barbara Alberti e volentieri insomma noi tutti quelli che sono d'accordo con la nostra proposta nostra ma credo poi che sia di tutti quelli che oggi vogliono la pace e la vogliono attraverso anche uno sciopero quindi logicamente spero che andremo avanti tutti insieme intanto vedo che ok intanto vedo che è presente giornalista di presenza che però ha detto che per il momento non ha non ha domande allora io allora darei la parola a Lauro Seriacopi spero di aver detto il nome perché l'ultima volta avevo sbagliato che è il vice presidente della fondazione Don Milani oltre che un amico che ho conosciuto da poco ma una persona per me molto molto diciamo importante a te Lauro grazie Roberto troppo buono nella porta della camera di Don Milani a Barbiana noi troviamo scritto quel motto che tutti voi conoscete I care mi sta al cuore mi faccio carico mi prendo cura mi prendo cura di un mondo che è la nostra casa comune la nostra nave dove camminiamo tutti senza distinzione di lingua di religione di culture di condizioni economiche tutta l'umanità nel suo essere umano cammina in questa palla spersa per l'universo accanto a questo motto che colpisce tutti e che fa riflettere tutti coloro che vengono a Barbiana e non solo troviamo sotto quella frase che Don Milani scrisse per i giudici nell'ultimo momento della vita quando fu accusato di viripendio alla patria e l'esatto contrario dice del me ne frego fascista il motto fascista me ne frego ecco noi crediamo che oggi troppa gente ancora non si fa carico non si prende cura si gira dall'altra parte e allora a noi viene in mente quando con i ragazzi e con le scolarische e con le associazioni riflettiamo a Barbiana su queste cose quel famoso scritto di Karl Riaspers la questione della colpa dove si dice e ci ricorda nel 1948 dopo la seconda guerra mondiale quando i tedeschi non volevano prendersi le responsabilità di quello che avevano fatto ci ricorda che c'è esiste una colpa criminale chi fa l'atto criminale esiste una colpa politica le leggi razziali e chi redige approva le leggi razziali una colpa sociale coloro che appoggiano quei partiti e quei governi che hanno elaborato le leggi razziali ma ciascuno di noi poi si trova in una condizione di non riconoscersi nell'una nella prima parte nei responsabilità criminale nella responsabilità politica nella responsabilità sociale perché vive isolato nel proprio mondo nel proprio benessere nel proprio interesse qui ci siamo davvero tutti allora di fronte a queste tragedie in cui il mondo ci ritrova con delle responsabilità storicamente determinate ci richiamano al fatto che noi abbiamo una colpa che Jasper si chiamava la colpa metafisica la colpa cioè che non si sostanzia nel far qualche azione eticamente riprovevole ma consiste nel disinteressarsi nel girarsi dall'altra parte come sovente ci ricorda Papa Francesco e lì ci siamo tutti e allora noi vorremmo risvegliare nei nostri ragazzi nelle nostre famiglie nei nostri genitori che abbiamo la responsabilità a sporcarci le mani le mani a prendere parte a far sentire il nostro grido il nostro desiderio di pace che è desiderio di libertà di uguaglianza di tutti gli esseri umani sulla scia di quello che Don Milani scrisse nella lettera ai giudici ricorderete mi piace ricordarlo non discuterò qui l'idea di patria in sé non mi piacciono queste divisioni se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiane e stranieri allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in desiderati e oppressi dall'altro privilegiati ed oppressori dall'altro gli uni sono la mia patria gli altri miei stranieri ecco vedete quindi dobbiamo interessarci a che questo che è il vulnus di una relazione pacifica tra popoli che rischia ma non rischia è già ci ha già portati nella terza guerra mondiale noi dobbiamo dire ciascuno di noi basta scendere in piazza far sentire la nostra voce e far tutte quelle azioni che in qualche modo non accomodano la nostra coscienza di dire ho fatto qualcosa ma mi tengono la coscienza sveglia attenta continuamente pronta a evitare che l'Italia partecipi ad una guerra di questo genere che sicuramente sta andando verso davvero una guerra mondiale e una con il rischio poi che le guerre siano sempre le ultime guerre come si diceva alla fine della sua lettera ai giudici Don Milani ecco allora noi non potevamo non aderire a questa a questa manifestazione per gridare forte quello che le migliori forze democratiche hanno gridato in questi anni basta la nostra produzione di guerra trasformiamo la nostra produzione di guerra in una produzione di pace di benessere per tutti per tutti basta a partecipare in qualche modo ad una visione di un razionalismo che non corrisponde poi ad una visione di unitarietà planetaria siamo tutti cittadini di uno stesso mondo di una stessa sfera che abbiamo e abbiamo l'obbligo di starci in questa in questa sfera pacificamente rispettando lo stesso vettore che ci trasporta in questa sfera cioè la natura l'economia le cose materiali che devono servirci non aumentare il nostro potere ma in qualche modo renderci sempre più uguali quindi noi parteciperemo ovviamente a questo impegno con le nostre forze che le nostre organizzazioni che ovviamente potrà fare quello che può fare però ce la metteremo tutta per raccogliere più adesioni possibili a questa giornata di sciopero in primis e ad una volontà di trasformare la cultura di guerra in cultura di pace vi ringrazio a tutti grazie grazie lauro e volevo dire che sta ad ognuno di noi ecco come dire oltre che firmare l'appello fare le dovute pressioni anche presso i sindacati perché è importante poi che ci sia da parte loro una risposta positiva allora io è presente l'aria beretta che è una giornalista dell'avvenire se ha tempo qualche minuto di aspettare poi io rispondo volentieri alla domanda che ha messo sulla chat perché volevo dare la parola a Mauro Annoni che è il presidente dell'istituto storico della resistenza di Pesaro che è stato uno dei primi sottoscrittori dell'appello e quindi volentieri io ascolterai quello che ha da dirci buonasera a tutti io prima di tutto sono un ex insegnante che ha lavorato 43 anni nel mondo della scuola e ho ragionato da ex insegnante del movimento di cooperazione educativa e sono ovviamente conoscente scusate di Roberto Lovattini che ha lanciato questa petizione io ho 71 anni e sono tra i fortunati che nella loro vita non hanno vissuto da vicino una guerra siamo tanti infortunati perché sono 80 anni che quasi 80 anni che l'ultima guerra è finita e però ho pensato ai miei ex alunni io ho alunni che in questo momento hanno dai 15 ai 56 anni quindi alcuni sono nel pieno della loro maturità altri sono invece giovanissimi e mi sono chiesto che cosa significa per loro questo momento mi sono chiesto e mi sono detto loro hanno il diritto di vivere in pace hanno il diritto di vivere in pace la loro vita tutti quanti e quindi è giusto che ci mobilitiamo e questa sensibilità però deve attraversare tutto il mondo della scuola in primis perché c'è una cultura di guerra che sta avanzando nella società italiana e nel mondo della scuola purtroppo quando è iniziata la guerra in Ucraina il comune di Pesaro ha assegnato alle varie scuole le bandiere della pace e le bandiere della pace erano sventolavano alle finestre ora mi chiedo dopo quasi tre anni di guerra in Ucraina non muoiono più bambini ucraini nel frattempo poi sono scoppiate altre guerre in giro per il mondo e altri bambini continuano a morire quindi bisogna che noi ripartiamo con la cultura della pace con le parole di pace perché in giro si stanno dividendo le persone in fazioni opposte tra coloro che vogliono una determinata cosa e un altro lo vediamo in tutte le situazioni e questa è una cultura di guerra che sta avanzando e che noi dobbiamo in tutti i modi contrastare quindi aderiamo a questa iniziativa come aderiremo a tutte le iniziative che verranno organizzate sul territorio locale e nazionale e anche speriamo europeo però ci sembra che chiedere ai sindacati che si che fermino la nazione per una giornata perché si rifletta tutti quanti su quello che sta succedendo sia fondamentale per cercare di far partire questa cultura di pace grazie a tutti voi grazie grazie a te grazie Mauro allora dunque io chiedo se è ancora collegato don Alessandro ci sei don Alessandro perché volevo chiedergli visto che è una persona che si è molto attiva ecco se vorrei chiederti un brevissimo intervento un minuto massimo due davvero cercando di stare nei tempi un breve tuo intervento proprio appunto su questa su questa proposta insomma su questa situazione ma io come come tu sai diciamo che ho un po' da sempre così calcato la mano nel senso che è necessario fare delle proposte che siano incisive e noi sappiamo come ti avevo scritto che la guerra gira attorno a due motivazioni due due motori uno è l'odio l'odio dell'uno verso l'altro e la volontà di annientamento dell'uno sull'altro e l'altro è quello economico quindi i guadagni i benefici che qualche d'uno riceve per per questi conflitti sull'odio dell'uno verso l'altro sulla prevenzione delle guerre e sull'educazione alla pace via dicendo io credo che ogni popolo abbia i suoi sistemi la sua cultura il suo modo di agire e quindi è giusto che Israele israeliani palestinesi russi ucraini non si può diciamo un modello che sia valido e uguale per tutto e soprattutto deve essere una cosa che parte dal popolo quindi che parte dalle stesse persone che sono in conflitto a partire dagli intellettuali dai capi religiosi se i capi politici evidentemente non sono di questo avviso però quello che si può fare e questo invece lo possiamo fare anche noi oltre all'educazione alla pace per quanto riguarda noi quindi il nostro il nostro popolo la nostra gente la nostra cultura è sicuramente quello di per quello che si può diciamo per ciò che è incisivo cercare di dire noi su questa guerra non vogliamo contribuire a questa guerra cioè non vogliamo finanziarla prima di tutto vogliamo dire che è comunque una guerra e come tutte le guerre non c'è il giusto e lo sbagliato io sono di questo avviso nel momento in cui uno vuole eliminare completamente l'altro non mi puoi dire che sei nel giusto perché o si sta insieme o si vive insieme e si vive in pace o altrimenti uno dei due non deve vivere lo devi sterminare ma abbiamo visto questo che cosa ha significato nella storia anche recente del secolo passato questo quindi è nostro diciamo credo nostro compito quello di dire di parlare quello di non finanziare e quello anche di dire chi è che questa guerra la fomenta ricordandoci che questa è una cosa credo che sia importante tu lo sai io addirittura vorrei mettere le immagini di quello che succede cioè quando noi vediamo il telegiornale l'inviato tra dei tali che parla da Gerusalemme che ha dietro la chiesa del santo sepolcro e fa vedere gli edifici distrutti quella non è la guerra la guerra sono le persone che sotto quegli edifici ci sono rimasti la gente che li piange e soprattutto i parenti che gridano vendetta e che gridano odio contro chi li ha ucciso Alessandro hai terminato? sì grazie grazie mille allora a questo punto non so la giornalista di Avvenire aveva fatto una domanda io vorrei cercare di rispondere eventualmente se poi non è una risposta sufficiente poi dopo lo dirà allora innanzitutto la lettera l'appello è partito diciamo a Piacenza perché a Piacenza c'è un gruppo di persone di cittadini che si stanno dando molto da fare sul tema della pace quest'anno hanno organizzato molte iniziative siamo stati alla Perugia Sisi e all'iniziativa che hanno fatto il 21 settembre siamo stati insomma in tanti posti siamo stati ad ascoltare anche il Papa all'Arena di Pace di Verona nel 18 maggio insomma direi che abbiamo fatto tante cose e allora è uscita un po' quest'idea di cui io mi sono fatto promotore e dopodiché ho cercato di contattare persone che a livello nazionale potessero condividere questa idea e che potessero anche così essere a loro volta rappresentanti di movimenti di associazioni eccetera quindi l'idea è nata perché io mi son detto ma possibile che se davvero noi siamo convinti che siamo arrivati a un punto di non ritorno noi andiamo avanti normalmente cioè anche le iniziative che facciamo sono iniziative che tutto sommato sì insomma fai una riunione fai parole ma io credo che se davvero siamo convinti che siamo arrivati a un punto di non ritorno ognuno di noi dovrebbe guardarsi dentro e dire no io non ci sto ed ovviamente mettere in campo tutta una serie di iniziative abbiamo pensato a uno sciopero perché abbiamo pensato non so insomma poi vedremo anche l'adesione delle persone abbiamo pensato che potesse essere un modo più coinvolgente che potesse riguardare tutti rispetto anche a una manifestazione nazionale dove la manifestazione nazionale è vero magari sono grandi partecipano in tanti ma noi vogliamo che partecipino tutte le persone come dire insomma non soltanto quelli che sono attivi o che si attivano per partecipare a delle manifestazioni nazionali e quindi abbiamo detto facciamo uno sciopero dai produttori facciamo come ho detto prima noi non facciamo un bel niente non possiamo indire lo sciopero quindi chiediamo che venga indetto uno sciopero dai produttori e dai consumatori perché siamo tutti consumatori e ad un certo punto in una data giornata vorremmo che davvero ci si fermasse si organizzassero riunioni riflessioni piccole grandi nelle chiese nelle moschee dovunque dovunque per riflettere su questo argomento che è importantissimo cioè qui non si tratta di avere un aumento di 50 euro o di 70 ma qui si tratta davvero di poter continuare a mantenere in vita gli esseri umani ma non solo gli esseri umani perché qui parliamo anche degli animali e dell'ambiente e quindi questa è stata un po' la cosa poi noi non ci siamo dati un obiettivo cioè andando su change di mano in mano l'obiettivo sale più firme raccoglie più l'obiettivo sale ma quello è un ahumatismo di change io sinceramente non mi sono dato un obiettivo mio obiettivo è di raggiungere il più possibile poi vedremo quante saranno io naturalmente spero che saranno tante e se non saranno tante vuol dire che quello è il livello di adesione che abbiamo che abbiamo raggiunto che abbiamo raccolto e quindi chiediamo alla stampa ripeto ai media a tutti quelli che possono di aiutarci a diffonderle queste cose perché come ho detto all'inizio tutti oggi parlano di guerra tutti tranne quelli che vogliono la pace in televisione sui giornali ma parlano i generali prima mi hanno ricordato che ma non tutti i generali perché quelli che invece sono un po' meno guerra fondai non parlano non li fanno parlare ma parlano i ministri che vogliono la guerra ma li sentiamo quelli che invece parlano di pace che magari da una vita ci lavorano da una vita studiano come fare non li sentiamo dovrebbe essere 50 e 50 è il 50% poi se andiamo se facessimo un referendum quelli che non vogliono la guerra sono molti di più lo sappiamo purtroppo però non è possibile farglielo dire farli esprimere e noi cerchiamo di fare in modo che possano esprimersi e che anche la stampa perlomeno la stampa quella più cioè meno guerra fondaia insomma pubbliche queste cose le faccia sapere io insomma mi rivolgo davvero a tutti perché ciascuno di noi può fare qualcosa per diffondere questa proposta se ci pensiamo non c'è nessuno che dice ah io non posso fare niente non è vero grazie allora dunque se se abbiamo allora io ho anche un paio di video sempre di due minuti che hanno inviato delle persone che non potevano essere presenti ma ci tenevano a dire a dire insomma quello che pensano per cui visto che non ho visto altri giornalisti che abbiano chiesto fatto domande o chiesto qualcosa io adesso farei partire questi video ecco questo è esatto allora aspetta un attimo questo è Pietro Bartolo ex medico di Lampedusa è stato non in questa legislatura nuova ma nell'altra è stato un euro parlamentare un personaggio insomma che ha fatto di tutto come dice lui stesso per la pace ha fatto l'attore oltre che il medico ha fatto lo scrittore perché ha scritto l'attore perché è stato un personaggio nel film dunque come si chiamava Melammare quindi insomma ha detto io ho fatto di tutto e se c'è bisogno continuo a fare di tutto ha voluto mandare queste parole viviamo tempi bui tempi bombardati letteralmente bombardati da notizie negative che giungono da ogni angolo del nostro pianeta il conflitto israelo-palestinese e quello russo-ugraino sembrano proprio non arrestarsi e come sempre accade in questi casi a pagare il prezzo più alto sono sempre le fasce più deboli della popolazione spesso troppo spesso devo dire i bambini è proprio davanti a questa continua escalation di violenza e sopraffazione che bisogna tenere dritta la barra e continuare a gridare con ogni energia possibile che la guerra non lascia che morte e disperazione ovunque gridare con forza che non esistono vinti e vincitori ma solo sconfitti bisogna rispondere con il segnale più forte che possediamo a questa sconfitta dell'umanità ovvero con la forza della speranza la speranza di un mondo di pace che deve essere alimentata dai costruttori di pace in tutto il mondo perché le guerre sono la sconfitta più alta più grande per l'umanità e nessuno dico nessuno può e deve rimanere indifferenti costruiamo costruiamo allora la pace giorno dopo giorno alimentiamo la speranza giorno dopo giorno un mondo di pace è possibile dipende da ognuno di noi quindi io dico pace pace bene grazie anche a Pietro Bartolo che ha voluto mandarci il suo messaggio allora visto che chiedo ancora ad eventuali giornalisti dopodiché intanto si Paolo Paolo Grillo con cui ci siamo conosciuti al telefono se non sbaglio stamattina quindi gli do la parola chiedendogli cortesemente sempre la la brevità grazie a te Paolo allora mi sentite perché ho difficoltà sto col telefonino sono sono udibile sì ti sentiamo benissimo allora buongiorno a tutti io stamattina ho parlato con Roberto e sono in stretto contatto da un anno e mezzo con Ginebra Bompiani con Cristina Rinaldi lavoriamo insieme in queste alcune chat che sono orientate verso il tentativo di portare la pagina al primo posto quello che mi contraddistingue su questa questione è un tentativo di concretezza di operatività intendo dire che l'appello di Ginebra Boppiani e di Barbara Alberti di Aprile è un'elegia è una poesia è un appello al profondo dell'essere umano ma poi manca della necessaria concretezza per poter arrivare a muovere un movimento ossia io faccio il sindacalista da 58 anni ho cominciato a 20 anni e ne ho 78 e quindi sono abituato a piattaforme concrete con le quali si riesce poi a proporre un obiettivo a mobilitare le persone perché o l'obiettivo si raggiunge o altrimenti si vede chi contrasta quell'obiettivo chiedere in particolare ai sindacati di promuovere una manifestazione e uno sciopero contro la guerra significa naturalmente avere degli obiettivi specifici cioè genericamente chiedere che non si faccia la guerra non può portare a risultati particolari certo da ammesso che si realizzasse uno sciopero mondiale con centinaia di milioni di lavoratori che non partecipano al lavoro facciamo l'ipotesi migliore quando dietro questa piattaforma non c'è un'indicazione un minimo specifica di quali sono gli interventi che permettono di evitare le guerre in corso di ridurle di portarle a trattativa è evidente che da un lato il sindacalista che deve promuovere questa iniziativa si sente a disagio perché è abituato a lavorare su proposte specifiche questa non è una proposta specifica questa è una proposta di carattere morale generale come si realizza questa proposta come andiamo dai potenti che hanno in mano le chiavi di questa situazione dicendo dovete smetterla ma chi la deve smettere in un modo e chi in un altro allora bisogna secondo me entrare più nel merito rispetto a questa aspirazione generale ovviamente condivisa da tutti perché se noi non mettiamo i piedi nel piatto questa cosa rimane così generica e nel frattempo va avanti la guerra perché è evidente che le popolazioni di tutti i paesi specialmente quelli coinvolti sono contrarie alla guerra però ognuno tiene per una certa soluzione e questo è noto altrimenti la cosa sarebbe stata risolta da tanto tempo no? e il problema si traduce quindi in chi ha ragione e chi ha torto perlomeno in alcune cose generalissime la prima cosa che sicuramente bisogna dire che è vietato vietare la possibilità di fare trattative anzi bisogna imporre alle parti che le trattative vanno aperte a ogni condizione anche mentre le bombe stanno pioccando perché è evidente che l'unico strumento per poter risolvere la questione non con la guerra è una trattativa voi sapete per esempio che Zelensky un anno fa fece un provvedimento di legge per l'Ucraina in cui si diceva che era vietato trattare con la Russia ecco questo è l'esempio massimo di una posizione pro guerra perché evidentemente è prevuto ogni possibilità di contatto la seconda cosa che credo che vada indicata con chiarezza è che nella trattativa devono uscire soluzioni che siano adeguate alle esigenze di ciascuno dei popoli che sono coinvolti in questa situazione ad esempio è evidente che non si può non entrare nel merito quando si dice che vogliamo la fine del conflitto israelo-palestinese è evidente che la prima cosa che si può dire e si deve dire assolutamente è che anche i palestinesi devono avere una loro unità territoriale un loro stato una condizione di autonomia e questa è una cosa irrinunciabile anche perché è stata sancita 80 anni fa dall'ONU quindi chiunque vive alla questa disposizione dell'ONU deve essere considerato colpevole della guerra deve essere punito con sanzioni a livello mondiale cioè non si può più giocare di distinzione mi spiego? ecco dove sta il nodo il nodo sta che purtroppo chiedere la pace significa che in parte perlomeno schierarsi poi non si entrerà nel merito non si entrerà nel merito specifico delle situazioni chi ha lanciato più razzi chi ha fatto più danni e così via però sicuramente quando c'è una causa originaria che ha portato a queste situazioni è evidente che se non si rimuove non si può fare la pace se tu mi stai mettendo un dito nell'occhio e gli altri che stanno intorno lo vedono che è il dito di Tizio che sta nell'occhio di Caio non possono dire fate pace fate pace devono fare in modo che Tizio levi il dito dall'occhio di Caio altrimenti la pace significa solo che quello va via tanto all'occhio mi spiego? si Paolo sono chiaro su questo scusami Paolo no è molto interessante quello che dici io ti chiedo di rimaniamo arrivo a conclusione poi arrivo a conclusione poi rimaniamo in contatto sì certo cercherò di formalizzare per iscritto questo tipo di valutazione ossia la necessità ormai impronogabile di entrare almeno parzialmente nel merito mentre si chiede la pace perché non è possibile che i precedenti non costituiscono testo ripeto le deliberazioni dell'ONU vanno seguite il diritto internazionale va seguito e ancora la prassi politica che in passato è stata ritenuta accettabile va seguita faccio questo ultimo esempio quando Kennedy accettò l'accordo con Khrushchev per cui Khrushchev ritirava i missili da Cuba ma lui ritirava i missili dalla Turchia quello è un esempio assolutamente da seguire perché in base a quello che siamo ancora vivi altrimenti noi saremo morti e invece la ragionevolezza di quelle due persone ha permesso la soluzione bisogna trovare una soluzione di questo genere mi spiego? grazie certo grazie Paolo grazie grazie davvero naturalmente noi nella nostra a presto ciao allora nella nostra lettera a pello non potevamo entrare nel merito di tutte le certo ma questo ti comprende però però è evidente che poi si tratta di fare quello no? esatto di essere concreti nel modo possibile ok bene allora io riusciamo chiedo a Daniele riusciamo a mostrare l'ultimo video ci vuole un attimino allora intanto è una questione di un altro video di due minuti se intanto c'è qualche giornalista che vuole fare una domanda io non l'ho vista nemmeno in chat se qualcuno comunque insomma chi vuole lasciare il proprio indirizzo mail se magari lo può scrivere nella chat per rimanere in contatto e perché così portiamo avanti davvero concretamente quello che quello che abbiamo proposto nella lettera quindi se volete potete scrivere in chat i vostri indirizzi per chi ancora ma io di molti li ho ma di qualcun altro di Paolo per esempio Paolo ho il cellulare perché ci siamo sentiti stamattina e dunque volevo dire che altri non sono potuti intervenire nonostante per esempio Pierluigi Bersani era in treno non riusciva a connettersi e quindi non ha potuto essere con noi ma anche altri quindi niente se non non riusciva a connettersi